Non c'è Natale senza cinepanettone E qui nel cuore di Milano Questa sera vedremo The Christmas Show E finalmente siamo con lui Uno degli attori protagonisti Non protagonisti Anzi posso dirvi Ma neanche nel cartellone Nonostante voglio dire Però sei qua questa sera E poi non sei Sei in ottima compagnia Siete inseparabili oramai Come i pappagallini Alex Belli D'Elia Duran L'ultima volta che ci siamo visti Hai presentato il disco dove Tu cantavi e lei ballava O cantavate tutte e due Qualcosa del genere È passato un po' di tempo Com'è il Natale per voi? Ma guarda Il Natale per noi vuol dire famiglia Nonostante quest'anno Abbiamo dei progetti Diciamo Estivi Ce ne andiamo al caldo Che è la cosa migliore direi Chiudiamo tutti i rubinetti del gas Ci vediamo a marzo E siamo con la Medeogoria Come sarà il tuo Natale? Il Natale guarda Io vivo abbastanza la giornata Non lo so Spero che sia in famiglia Io ho due figli Un'ex moglie Il compagno dell'ex moglie Il compagno prossimo sposo di mia figlia Il marito La moglie di mio figlio E soprattutto spero che Che sia un Natale E' banale dire felice per tutti The Christmas Show Qui in compagnia di Aristide Mummi e Malnati Caro Ari Ci vuoi raccontare del Natale nell'antichità? Allora Mi lanci su un argomento a me caro Io mi ribello a questa anglofonia imperante Per cui per me The Christmas Show non è tale Ma è il Dies Natalis Oppure il Die Natalis Spectaculum Cioè una sorta di show Nell'antica Roma Quando nasceva il cristianesimo E compagnia di questa allegra combricola Ci siamo Ma siete contenti che vi ho portato al cinema? Vi ho portato al cinema Ma chi ha pagato? Michi? Ho pagato io per tutti Grazie, grande Ha pagato Michi Grazie Michi Sei un grande Speriamo che offra anche la cena No, no, no Già prenotato Michi, mi raccomando E' lui? E o non è lui? Certo, non è lui Il mitico blind Come va? Come va? Come va? Tutto bene Sono un sacco emozionato Perché è il mio primo red carpet E' la mia prima premiere E' il primo film che faccio Ebbene sì Lui Il campione dei campioni Marco Malandri Come va? Benissimo Benissimo Com'è il tuo Natale? Il Natale è un momento Veloce Veloce Da dedicare alla famiglia E' un momento per riflettere su come è stato l'anno Non la stagione, l'anno Claudia Peroni Lei è la donna dei box Natale nei box com'è? E' sempre Natale ai box E' sempre Natale Diciamo così Perché comunque insomma C'è magia C'è qualcosa di speciale E tutta l'energia che emana al Natale Ai box c'è sempre Assolutamente sì Ciao Gianluca Ciao Ho visto che ti hanno portato il trono Oppositamente per te Come mai questa cosa? Perché mi stanco velocemente Quindi mi sono seduto E in compagnia di Irene e Andrea I Mago Produzioni Loro sono il numero uno Delle produzioni televisive e cinematografiche Come sarà il vostro Natale? Andre grazie Non so come dirti Ringraziarti per questi complimenti Il nostro Natale sarà ricco di novità E grandi progetti in partenza Quindi siamo felici Su tutti i mercati Vediamo un grande positivismo E realismo nel fare Per TG Evans siamo qua L'anteprima di Christmas Show Con Andrea Ciao Andrea Senti Finalmente torna il Teatro Panettone Tu che hai fatto tanti cinepanettoni Tu che ne hai visti Tu che sei un po' un panettone Che effetto ti fa questa serata? Io ero un po' un panettone Adesso sono dimagrito Fa un bellissimo effetto Poi soprattutto con te L'effetto è eccezionale Eccezionale Finalmente uno dei protagonisti Il più grande attore secondo me italiano Com'è stato questo film? È un film sul Natale I valori I valori del Natale E devo dire che c'è tanta gente Che torna al cinema Assolutamente E per questo è una bella È una bella soddisfazione Di Rege Bezaz Bravo Bravo Se no mi picchia Caro Luca Un'altra tua amica Sì lo salutiamo Ciao Luca Lo salutiamo Com'è il tuo Natale Il mio Natale Nonostante io sia musulmana Sarà pieno di gioia Di regali E di scambio Di energia positiva Quello dovrebbe essere tutto l'anno Però eh mi raccomando Siamo con Rosi di Lettuso Ciao Rosi Com'è il tuo Natale? Beh guarda Io non vedo l'ora che arriva il Natale Poi finalmente quest'anno Siamo liberi È bellissimo il Natale Poi soprattutto Adesso si può andare al cinema Ebbene sì Siamo venuti solo per te Per vedere te Del film non ci interessa nulla Vedere il film al cinema Dovete venire tutti al cinema Bisogna far ripartire questo cinema Ci sono tanti bei film in giro Ma dovete venire a vedere The Christmas Show Perché merita E poi detto da Serena Autiere Insomma direi che merita veramente Grazie E da Milano è tutto Andrea Evans T.G. Evans Grazie Grazie a tutti